Parliamo oggi di un libro sul quale finora ho nicchiato. Appunto parliamo di questo libro che ho ignorato fino a questo momento ma che in realtà al momento in cui l'ho letto avevo ottenuto ben 5 stelline su Goodreads. Se non mi seguite su Goodreads qua sotto trovate come sempre i link per poterci arrivare al mio profilo e per chiedermi l'amicizia. Sto parlando di Nodi al Pettine di Mary Ode Morel, edito Giunti e uscito nel 2004. Un libro che avevo messo in lista già nel momento in cui lessi un altro libro di questa autrice di cui ho fatto la recensione che vi lascio qua sopra, ovvero Mio fratello Simpol. Già all'epoca mi sono accorta che questa autrice comunque ha questa particolarità di rendere fruibili ai giovani, ai preadolescenti, perché la fascia d'età a cui è indirizzato anche questo romano è sempre quella, delle tematiche molto difficili e infatti anche in questo andiamo ad affrontare delle tematiche molto attuali e di difficile comprensione per qualcuno che non è stato tra virgolette educato ad accettare determinati argomenti della vita. Ma parliamo della trama, perché Nodi al Pettine? Perché in realtà la location, l'ambientazione di questo romanzo è un salone da parrucchiere. C'è Luis, che è il nostro protagonista, che è in terza media e è nel passaggio tra la seconda e la terza media e gli viene suggerito dalla scuola o imposto dalla scuola di dover fare uno stagio lavorativo da qualche parte. Mentre il padre già sta pensando di mandarlo in qualche ufficio o cose del genere perché aspira per lui ha una carriera super fantastica e super ricca come lui, in realtà Luis si fa convincere dalla nonna a fare questo stagio in un salone di parrucchiere. Perché? Perché passando davanti alla vetrina di tale salone rimane affascinato da questo lavoro. Inizialmente Luis fa molta fatica ad ammettere il suo interesse per una tale professione che viene considerata non solo dal padre ma da tutto il contesto sociale una professione di serie B. Di conseguenza quando inizia a fare questo stagio lui la prende veramente sotto gamba. Ma nel momento in cui entra poi nel salone e conosce tutti i suoi colleghi, tutti coloro che lavorano in questo salone si fa davvero affascinare e conquistare da questa professione sorprendentemente in quanto lui non si sarebbe mai aspettato da maschio appunto di rimanere colpito appunto da una professione prettamente femminile. Inizialmente il primo giorno diciamo che prende questo stagio sotto gamba mano a mano che va avanti nel tempo non solo deve tenere nascosto il fatto che sta frequentando lo stagio in questo salone di parrucchiere ma deve tenere nascosto il fatto anche che lui vuole mollare la scuola per poter praticare questa professione. Da qui si susseguiranno un sacco di problematiche che non sono legate principalmente a Luis ma anche a personaggi minore e ai suoi colleghi del salone di parrucchiere per il quale poi alla fine comunque Luis grazie alla sua determinazione, grazie alla sua grandissima passione per le acconciature, per le tinte e via dicendo, riuscirà nel suo intento di diventare un grandissimo professionista nel settore da lui desiderato. Quindi questa è un po' la trama a grandi linee ovviamente non posso spoilerarvi come vanno le cose ma è un romanzetto che secondo me grandi e piccoli dovrebbero leggere e perché? Perché in realtà come dicevo all'inizio affronta delle tematiche davvero attuali importanti e molto spesso anche queste prese sotto gamba La prima cosa che spicca fin dai primi capitoli è la psicologia del lavoro Di questo tema ho parlato anche quando ho fatto la recensione della trilogia di Una notte al museo che se non avete visto vi lascio qua sopra Perché parla di psicologia del lavoro? Perché come ho detto anche all'inizio del riassunto della nostra trama il padre di Luis fa una distinzione nettissima tra determinati tipi di lavoro quindi i tipi di lavoro che ti portano grande ricchezza economica ma poca ricchezza tra virgolette a livello umano e altri tipi di lavoro che vengono considerati da femmine appunto anche qua c'è un po' di sestismo diciamo inside oppure semplicemente di serie B in quanto non sono dei veri e propri lavori non serve un percorso universitario chissà quanto difficile per poterli fare via dicendo almeno questo è quello che crede il padre di Luis perché noi ignoranti del settore scopriremo che in realtà dietro al lavoro anche di un parrucchiere c'è un sacco di studio ci sono un sacco di preparazioni tecniche e non che comunque bisogna fronteggiare in quanto parrucchiere oltre al fatto che il lavoro di parrucchiere ha anche un lato umano quindi il rapporto col cliente via dicendo per il quale o lo sai fare oppure no questa cosa mi ha fatto sentire molto molto empatica perché come ho detto anche l'ultima volta che abbiamo parlato di questo tema è un tema quanto mai attuale mai come in questi due anni abbiamo sentito parlare di lavori di serie A e lavori di serie B lavori che possono mandare avanti l'economia dello stato e lavori che non lo fanno o almeno così si crede di conseguenza lavori essenziali e non essenziali in questo caso il divario è abistale perché le aspirazioni che ha Luis sono fortemente contrapposte dalle aspirazioni che il padre ha per lui stesso di conseguenza una delle tematiche più importanti è la psicologia del lavoro che è un argomento in realtà molto attuale ma di cui si parla veramente poco ogni ragazzo come ho detto anche l'ultima volta di cui abbiamo parlato di questo tema non si sente particolarmente libero di intraprendere una determinata professione piuttosto che l'altra perché si sente sempre intimidito dal fatto dal giudizio altrui per quanto riguarda la professione che gli scegli invece il messaggio che bisognerebbe passare ai giovani è tu hai un sogno, vuoi fare quello impegnati per fare quello il meglio possibile sarai felice non fare quel lavoro perché tanto non ti porterà niente vai a fare piuttosto quell'altro che a livello di carriera ti soddisferà molto di più in realtà non è così, in realtà ognuno dovrebbe veramente essere libero di seguire i propri sogni indipendentemente dal reddito, ecco detto ciò, poi se volete approfondire questo discorso magari creerò un video apposito per questa cosa un altro tema gigantesco ma proprio gigantesco che viene fuori in questo libro anche se in realtà non è specificato se c'è un personaggio che rappresenta veramente questo tema è tutto molto fumoso insomma, tutti immagini delle cose che in realtà poi nell'effettivo non si realizzano ma uno dei temi più grandi di questo libro è l'omofobia perché l'omofobia? perché il personaggio di Lewis, come vi ho detto non si sa di preciso se sia omosessuale, eterosessuale non si sa quale sia il suo orientamento sessuale in realtà quello che ho percepito io è che viene considerato omosessuale in quanto sceglie la carriera di parrucchiere del quale abbiamo lo stereotipo, tra virgolette, del parrucchiere maschio che o è omosessuale oppure niente e mi sono sentita molto empatica perché con la danza è la stessa cosa ma in realtà Lewis è eterosessuale ce lo dimostra perché comunque durante questa storia intraprende una sorta di relazione con una donna di conseguenza l'omofobia passa solamente per quello che è ovvero una costruzione sociale per il quale alcuni lavori alcune pratiche vengono associate alle femmine e altre ai maschi e non c'è possibilità di, tra virgolette, mischiare i due mondi senza compromettere la propria posizione sessuale l'omofobia è rappresentata principalmente dal padre di Lewis che così come per il lavoro gli impone anche determinate cose in quanto maschio non in quanto figlio suo o in quanto padre premuroso che vuole una carriera altisonante per il figlio ma proprio per questo motivo quindi l'omofobia viene vista a 360 gradi in più abbiamo, se non mi ricordo male perché oramai sono passati due mesi da che l'ho letto però mi sembra di sì un collega di Lewis che invece è dichiaratamente omosessuale quindi comunque vediamo anche questa dinamica prima Lewis che si interfaccia con questo collega giustamente reduce dall'educazione datagli dal padre e poi il padre stesso che si interfaccia sia con questo collega di Lewis sia con lui se stesso immaginandosi chissà che cosa solo per partito preso per stereotipo, per pregiudizio e questa è una tematica affrontata secondo me molto molto bene soprattutto indirettamente ti spiega anche le motivazioni da cui nasce poi l'omofobia altro argomento forse un po' marginale ma del quale si parla molto apertamente e in maniera dettagliata è la violenza sulle donne ovviamente è un argomento che non rientra nel personaggio di Lewis né in nessun personaggio maschile principale di questo libro ma c'è una collega di Lewis che è vittima di violenza domestica appunto costretta non solo a lavorare di più per evitare il fidanzato ecco che ovviamente fa su di lei sia violenza fisica che psicologica ma soprattutto la cosa interessantissima è prima di tutto fino a che punto può arrivare una violenza e in secondo punto si fa una netta distinzione tra una violenza psicologica e una violenza fisica la violenza fisica è molto più di facile comprensione tant'è che la maggior parte delle volte a livello di cronaca comunque salgono in primo piano più che altro le violenze fisiche perché arrivano veramente al limite ma la violenza fisica è chiaro che è una conseguenza di una violenza psicologica infatti in questo libro una cosa apprezzabilissima è il fatto che si dà molta importanza alla violenza psicologica e Lewis quindi noi da lettori in prima persona con gli occhi di un tredicenne affrontiamo passo passo in maniera graduale questo argomento della violenza psicologica comprendendolo sempre di più e quindi di conseguenza poi riportando nella realtà questa tematica potendolo combattere e la cosa mi ha affascinato e mi è piaciuta tantissimo perché come le altre tematiche io mi metto nei panni del tredicenne che prende in mano questo romanzo e capisco che è uno di quei romanzi che potrebbe veramente cambiare la società in meglio altro tema che viene affrontato indirettamente con il quale si interfaccia Lewis è la disabilità questo tema viene affrontato perché la capa tra virgolette di Lewis è disabile sta sulla sedia a rotelle per un incidente che appunto le ha paralizzato la parte inferiore del corpo Lewis ha lo stesso modo delle altre tematiche si interfaccia gradualmente con questa tematica all'inizio gli incute un po' di timidezza un po' di insicurezza perché non sa bene come interfacciarsi con un capo che a tutti gli effetti è una persona normale se non per questo problema fisico perché è imbarazzato dalla condizione fisica del suo capo giorno dopo giorno invece lui comprende come comportarsi ovvero senza farsi il problema di comportarsi in un determinato modo in un altro con il suo capo salvo che non abbia particolari bisogni appunto il suo capo allo stesso modo non è che lo tratta diversamente perché è un novellino al contrario lo integra perfettamente forse è proprio questa la chiave per il quale poi Lewis riesce ad affrontare la disabilità del suo capo chiaro che in questo caso almeno parlo in maniera molto personale la disabilità che viene affrontata in questo romanzo non è pari a una disabilità mentale cerebrale di conseguenza secondo me non c'è paragone a livello di approccio però è un inizio e se non altro un inserire una tematica quanto mai discussa e quanto mai incompresa nella testa di un tredicenne ecco quindi secondo me comunque come approccio come tematica è molto bella affrontata anche se in maniera marginale però molto bene sicuramente se uno vuole imparare di più su come approcciare a livello sociale un disabile sicuramente ci sono altri romanzi per ragazzi che hanno questo tema e se siete interessati andrò a fare qualche ricerca e li troveremo insieme anzi se li avete letti fatemi sapere voi in ultimo tema macro tema tema gigantesco che viene affrontato dall'inizio alla fine di questo libro è l'adolescenza e il passaggio alla vita adulta la nostra storia si apre su una scelta su una scelta che un preadolescente deve fare nei confronti della sua nuova scuola la scuola che dovrà iniziare sia a livello scolastico appunto di percorso da studente sia in quanto essere umano che si approccia comunque ad altre persone una scelta che è fondamentale comunque nella vita di un ragazzo ma che in realtà è una di quelle scelte che si può anche rimangiare un ragazzo nel momento in cui vede che ha fatto la scelta sbagliata forse per le motivazioni sbagliate per evitare questo bisognerebbe partire a monte e quindi ritornare alla prima tematica del lavoro e del mondo del lavoro per il quale un ragazzo fa la scelta giusta subito perché non si sente intimorito da nessun tipo di pregiudizio al di là di questo comunque si apre su una scelta che un adolescente deve fare una scelta che in realtà secondo me soprattutto nel nostro contesto italiano è una scelta forse un po' azzardata forse in Francia nel sistema scolastico si inseriscono questi stage lavorativi già alle medie in modo che poi lo studente possa più tranquillamente scegliere la scuola più adeguata a lui questo è quello che succede a Luis questo è quello che Luis non si aspetta ma che gli succede gli capita addosso e che accoglie con gioia vediamo tutta questa mega tematica che ci porta poi a una conclusione nel quale appunto è giusto che ognuno scelga la carriera che vuole a seconda della sua indole, del suo talento delle cose che piano piano va scoprendo di se stesso ma partendo sicuramente da una fortissima passione per quello che fa ed è una cosa che ha tutta la mia stima perché anche il mio lavoro in questo caso è molto incompreso è molto difficile da intraprendere in Italia non ci sono percorsi scolastici che permettono di fare questo tipo di lavoro insomma in generale era l'ultima tematica ma comunque sono tutte tematiche davvero importantissime per i ragazzi soprattutto delle medie quindi è un libro che consiglio veramente tantissimo da far leggere ai ragazzi soprattutto poi adesso che ci avviciniamo poi all'estate e sicuramente potrà essere utile questo mio consiglio insomma un librettino piccolo ma intenso molto intenso e adesso ho finito la voce quindi penso che mi fermerò qua spero che questa recensione vi abbia soddisfatto che vi sia piaciuta fatemi sapere in un commento cosa ne pensate di questo romanzo o cosa vi ha incuriosito di più delle cose che vi ho raccontato se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like di supporto e se pensate che possa interessare questo libro ai vostri amici parenti e conoscenti condividetelo su tutti i vostri social infine se pensate che questo canale sia fantastico che vi piace tutto quello che faccio e via dicendo iscrivetevi e cliccate sulla campanella noi ci vediamo il 26 di aprile con Danza con Gio quindi domani invece ci vediamo con la prossima books review attenzione il 24 di maggio non il 25 perché a maggio come sapete ricorre l'anniversario di questo canale e ci sarà il bookshelf tour un bacione e ci vediamo alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti